ciao sono giuseppe elia dal pubblica e in questo video nei prossimi 4 minuti ti mostrerò quali sono le cinque caratteristiche che ogni sito web dovrebbe possiedere per essere professionale vediamoli subito design e navigabilità il sito web deve essere un punto di incontro tra estetica e funzionalità capace di trasmettere fiducia e comunicare professionalità al mercato a cui intende rivolgersi chiaro e completo deve descrivere molto chiaramente i punti di forza e valorizzare le caratteristiche dei prodotti e servizi proposti contesti ricchi di contenuti interessanti e ben strutturali completi di foto e video reali visibile nei motori di ricerca la realizzazione non deve fermarsi al design grafico e ai contenuti ma prevedere anche una buona ottimizzazione se o iniziale al fine di rendere il sito visibile sui motori di ricerca per procurare nuovi business per l'azienda condivisibile tramite un sistema di strumenti deve consentire la facile condivisione dei contenuti sui principali social network per incentivare una diffusione virale dei contenuti tra gli utenti migliorabile e misurabile il sito deve essere completo di un software di analisi del traffico in grado di permettere di monitorare con dati precisi e di facile comprensione il comportamento e le interazioni dei visitatori conoscere queste informazioni consente infatti di migliorare nel tempo contenuti e funzionalità del sito stesso al fine di aumentare l'efficacia e di risultati per il business bene abbiamo visto quali sono le cinque caratteristiche che ogni sito web aziendale dovrebbe possedere per rivelarsi uno strumento valido a supporto della tua azienda e quindi rivelarsi un investimento vincente grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video